Buonasera, l'argomento di stasera riguarda l'autonomia, l'autonomia rafforzata, differenziata o come si può chiamare in tutte le salse e forse anche in tutte le lingue o in tutti i dialetti parliamo di regioni e di autonomia uno degli argomenti più accesi del dibattito politico attuale per la verità pensavamo di fare un certo tipo di trasmissione ma proprio oggi è avvenuto un evento c'è stato un evento politicamente importante c'è stato a Napoli nel pomeriggio un incontro fra il ministro che deve fare la riforma e che deve organizzare o riorganizzare le autonomie regionali così come prevede la nostra Costituzione il ministro Calderoni e il presidente della regione Campania De Luca il quale insieme agli altri governatori del sud Emiliano, Bardi sta mettendo insieme un fronte comune per chiedere al governo e poi ovviamente anche al Parlamento di fare la riforma in un certo modo e cioè in maniera tale che gli interessi del mezzogiorno siano salvaguardati ecco, questo incontro, questo vertice pomeridiano di Napoli ha colto un po' tutti di sorpresa e diciamo che sul piano politico è una vera sorpresa anche se l'incontro era stato già annunciato ieri ma probabilmente ancora più sorprendenti sono le conclusioni di questo incontro e questo poi farà prendere anche al nostro dibattito un orientamento, una strada un po' diversa da quella che avevamo ipotizzato allora che facciamo? andiamo a Napoli andiamo a Napoli con Grazia Rongo che ha seguito la conferenza stampa che si è appena conclusa fra la conferenza stampa fatta sia da De Luca e sia da Calderoni andiamo a Napoli Grazia Rongo che cosa è successo oggi? che cosa si è detto? quali sono le nuove conclusioni sull'autonomia? il clima era sereno sebbene la conferenza, l'incontro sia stato annunciato solo ufficialmente ieri in realtà lo stesso Calderoli lo stesso ministro Calderoli ha detto che era da tempo che parlava, litigava anche con De Luca al telefono ha avuto più incontri prima verbali prima di decidere di incontrare proprio lui ha detto anche che non è stato casuale decidere di andare a parlare proprio con De Luca perché ha considerato ha detto proprio il suo carattere forte la sua decisione e anche tutte le richieste che De Luca comunque aveva già anticipato clima accordiale e abbiamo visto anche un De Luca particolarmente mansueto cioè nel senso che ha praticamente riconosciuto a Calderoli il merito di aver praticamente di aver assunto la decisione di aver lavorato per la definizione dei cosiddetti LEP fissando una data cioè sei mesi entro i quali questi livelli essenziali delle prestazioni dovranno necessariamente essere definiti Calderoli stesso ha detto che invocato anche da una giornalista che ha chiesto se sei mesi non fossero un tempo troppo breve per definire questi ILEP ha detto che abbiamo aspettato vent'anni per poterli definire non possiamo aspettare altro tempo è arrivato il momento in cui debbano necessariamente essere definiti quelli che sono i bisogni essenziali degli italiani su cui bisogna lavorare anche per gestirsi bene le autonomie Su questo argomento andremo a precisare meglio anche per spiegare agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando possiamo sentire ovviamente in sintesi in breve sintesi quello che hanno detto sia Calderoli sia De Luca Sapete che il tema principale che noi avevamo sollevato in questi anni era quello della definizione dei ILEP i livelli essenziali di prestazione come atto pregiudiziale ad una discussione di merito sull'autonomia differenziale è merito del ministro Calderoli di aver assunto una decisione di grandissimo rilievo con coraggio politico con onestà intellettuale nel momento in cui ha deciso di lavorare per la definizione dei ILEP fissando però una data precisa uno dei motivi per cui non si aderiva a questa richiesta di definire prima ILEP era il sospetto che si buttasse come dire la palla in tribuna e si perdesse tempo il ministro Calderoli ha deciso che questo lavoro è ragionevole farlo prima ma a patto che ci sia un tempo definito sei mesi nel frattempo però e abbiamo consegnato al ministro una nota di proposte della regione Campania possiamo lavorare per ottenere in pochi mesi dei risultati in termini di modernizzazione dello Stato di semplificazione come diciamo noi in Campania di burocrazia zero a costituzione invariata io credo che le intese nel termine dell'approvazione da parte del Parlamento potranno avvenire nel giro di un anno perché i primi sei mesi vengono utilizzati per la definizione dei LEP delle relative funzioni e a seguire dal calcolo della spesa storica i costi standard che hai fabbisogna standard e finalmente il poter anche quantificare da un punto di vista economico cosa costino questi LEP bene come avete sentito di novità ce ne sono quantomeno e lo dico ai miei ospiti qui in studio per prima il governatore della regione Puglia Michele Emiliano il professor Gianfranco Viesti che saluto vi dico che abbiamo in collegamento anche il presidente della regione Basilicata Bardi e da Potenza Vito Bardi e da Palermo il presidente della regione Sicilia Renato Schifani io saluto anche loro ecco brevemente riepiloghiamo quello che è accaduto oggi a Napoli De Luca e il ministro Calderoli si sono incontrati hanno raggiunto una prima intesa e cioè il ministro dice va bene in sei mesi facciamo finalmente questi LEP non sappiamo se definirli benedetti maledetti o chissà che entro sei mesi si fanno i LEP i livelli essenziali delle prestazioni nei successivi sei mesi poi chiudiamo il confronto quindi in un anno dice Calderoli avremo la autonomia differenziata brevemente prima di entrare nello specifico Emiliano che dice va bene innanzitutto non c'è nessuna novità devo essere sincero cioè è chiaramente un modo nel quale sia Calderoli che De Luca hanno comunicato quello che stava accadendo ma la decisione sul diciamo anticipare i LEP all'eventuale autonomia differenziata era stato il frutto di una decisione presa da Calderoli dopo l'incontro con la conferenza Stato-Regione peraltro sulle modalità scelte da Calderoli per anticipare i LEP c'è tutta una discussione in corso che probabilmente va riagganciata nella conferenza delle Regioni perché va decisa da tutte le Regioni e invece la proposta di burocrazia zero che De Luca ha data a Calderoli è il programma del Partito Democratico nelle scorse elezioni politiche contenuto nella cosiddetta carta di Taranto che fu firmata da me da De Luca e da Letta quindi De Luca ha fatto il suo lavoro ha fatto il suo lavoro e lo ha fatto bene dal mio punto di vista si prosegue poi sentiamo dopo lei professore chiedo il parere degli altri Presidenti della Regione andiamo a Palermo dal senatore Schifani Presidente buonasera saluto il Presidente Emiliano saluto il Presidente Barri e vorrei imporre un tema di distinzione in relazione al fatto che la Regione Sicilia al di là del fatto di condividere la perplessità di molti governatori sul tema dei letto cioè si sono fatti sì dei passi in avanti lo schema iniziale del Roberto Calderoli era molto più stringente sull'individuazione di questi principi che io ritengo strategici per una buona riforma individuare una volta per sempre i livelli essenziali di prestazione vogliamo definire i livelli essenziali di assistenza che è la stessa cosa si era partito secondo me col piede un po' sbagliato adesso grazie alla conferenza Stato-Regioni e all'attivismo di molti miei colleghi del Mezzogiorno si sta individuando un percorso molto più ragionato perché se non si riesce a trovare una sintesi su quelli che sono i livelli essenziali per garantire i diritti civici i diritti sostanziali della persona della sua dignità del suo diritto alle cure si partirebbe col piede sbagliato io aggiungo un elemento di distinzione noi siamo regione a statuto speciale godiamo di uno statuto che ha natura pattizia e vale come la Costituzione che prevede all'articolo 36 37 del stesso statuto la piena autonomia finanziaria un concetto base cioè tutte le imposte versate nella nostra regione rimangono qui da noi questo principio nel tempo purtroppo negli ultimi tempi è stato depauperato è stato disapplicato per responsabilità delle classi politiche precedenti quando non c'erano i presidenti eletti direttamente dai cittadini ma erano figli del sistema centrale e questa autonomia speciale sia un attimo e vi voglio dire molto indebolita allora io ritengo che questo sia il momento giusto per trattare con il governo don Ministro Calderoli che si occupa abbastanza intensamente dell'autonomia differenziata porre sul tavolo il ripristino di quelli che sono i diritti dei quali siamo stati spogliati siamo pronti a discutere con il Ministro ma chiediamo il ripristino di un nostro diritto il quale non è certo responsabile il Ministro Calderoli ma è responsabile del sistema allora se dobbiamo parlare di questi temi parliamo anche di riattivare un'autonomia che la Sicilia aveva e che ha perso non per propria responsabilità questo è un principio forte per il quale io mi batterò ma è un principio previsto tra l'altro dal nostro statuto che ha valenza di costituzione ecco Presidente lei è sembrato lei è sembrato un po' come dire poi su altri temi su altri argomenti staccarsi dalla linea del centro-destra no non intendo affatto staccarmi io Presidente sono presente in una regione a statuto speciale vogliamo dimenticare questo se lei pensa che io mi voglia staccare rivendicando un principio costituzionale qual è quello della specialità della regione Sicilia secondo me si sbaglia io non intendo staccarmi da nulla però si è creato adesso un tavolo sulla riforma dell'autonomia bene noi l'autonomia l'abbiamo e credo che rivendicarlo sia un giusto diritto non si trova nulla di strano se lei dice praticamente a paura teme la Sicilia come le altre regioni a statuto speciale che le altre regioni ordinarie ricevono gli stessi trattamenti ci sono altre regioni a statuto speciale che hanno l'autonomia finanziaria e ne godono noi purtroppo per responsabilità del passato e connivenza tra i governi regionali e i governi nazionali siamo stati spogliati di questo principio che è a valenza costituzionale allora se non vi fosse stato il tema il tavolo dell'autonomia differenziata non avrei posto questo argomento ma visto che sono invitato ad un tavolo che si occupa di questo argomento io ritengo di avere il dovere politico anche istituzionale di porlo sul tavolo perché è un diritto costituzionale allora è giusto che vada ripristinato ho il dovere di farlo grazie certo grazie presidente noi la ringraziamo anche per aver partecipato sappiamo che adesso ci deve lasciare per un impegno istituzionale quindi un altro argomento che si aggiunge a quell'indiscursione che la Sicilia pone dice noi siamo già autonomi abbiamo abbiamo il nostro statuto speciale però i soldi non ce li abbiamo lo stesso se torno a De Luca Calderoli vuole direttore allora facciamo una cosa andiamo in pausa di pubblicità e poi riprendiamo l'argomento va benissimo va benissimo bene allora professore un attimo di pazienza vorrei sentire anche il presidente Bardi prima presidente della regione Basilicata presidente Bardi buonasera praticamente gli abbiamo dato noi la notizia di questo vertice napoletano ha sentito le dichiarazioni di De Luca e di Calderoli anche il commento del presidente Emiliano lei che dice? ma guardi intanto saluto i presenti sia Schifani Emiliano credo che sia chiaramente un tema di cui abbiamo parlato in questi giorni e concordo con quello che il presidente Emiliano dice il discorso dei sei mesi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è un qualcosa che è stato già deciso già sessata l'interlocuzione con il ministro Calderoli ritengo che mi auguro che sia un periodo sufficiente per poter raggiungere almeno un certo obiettivo anche se ricordo a me stesso che dopo più di sette decenni dall'approvazione appunto del costituzionale le vie che finora sono state percorse non hanno portato a nessun risultato quindi che cosa questo fa comprendere fa comprendere proprio che la interpretazione e soprattutto i modi di vedere questi livelli essenziali sia di forme a secondo dei territori a secondo delle regioni che si applicano su questo io quello che posso dire come regione e ho avuto modo già di affermarlo è che sicuramente il tema dell'autonomia differenziata di cui al 116 della costituzione può costituire sicuramente un percorso virtuoso per cercare di adattare quelle che sono sia le politiche nazionali che quelle europee alla diversità delle diverse regioni però quello che io ritengo sia necessario e ho avuto modo anche di esplicitarlo al ministro Calderoli l'importante è che questo percorso avvenga con gradualità vale a dire noi possiamo realizzare sicuramente un'autonomia ma questa autonomia deve seguire una certa deve essere temperata ecco io dico un'autonomia temperata ma soprattutto quello che è importante è che in corso d'opera vengano fatti delle verifiche su come le cose stanno procedendo altrimenti si rischia di andare avanti con un discorso senza poi verificare quelli che sono le effettive esigenze e quali sono gli obiettivi da dover raggiungere grazie presidente è chiaro che le regioni si le regioni dicevo si muovono in modo in modo diverso a secondo delle esigenze del proprio territorio chiaramente certo grazie presidente torneremo da lei fra poco vorrei sentire a questo proposito professor Viesti sì le darò un giudizio misurato sull'incontro su quello che ho sentito da Calderoli e De Luca pessimo perché pessimo perché fumo perché nasconde i problemi sembra che il ministro che l'ha scritto e il presidente della regione che l'ha letto non conoscano quello che c'è scritto nella legge di bilancio per fortuna non c'è solo un professore ma c'è l'ufficio parlamentare di bilancio cioè un organo ufficiale del nostro paese che ci permette di capire di che parliamo di soldi che è uno dei temi dell'autonomia differenziata non ci dimentichiamo mai che le regioni vogliono abolire la scuola pubblica italiana e trasformarla in scuole regionali quindi dobbiamo parlare moltissimo di temi adesso parliamo di soldi che sono questi lepp sono quanta scuola quanta salute quanta assistenza deve avere ogni italiano indipendentemente da dove viva li ha introdotti Calderoli no sono nella costituzione dal 2001 e bisogna attuarli sono stati attuati non sono stati attuati verranno attuati con la legge di bilancio no leggo anche perché si sono presi sei mesi due diche tutta l'operazione ufficio parlamentare di bilancio tutta l'operazione sembra limitarsi a sistematizzare l'esistente assumendo come LEP i servizi che sono già previsti un ampliamento dei servizi dove ce ne sono di meno largamente nel mezzogiorno non viene finanziato non c'è nessun meccanismo di superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali in quanto non possono essere determinati né tanto meno finanziati i livelli di prestazioni che non siano già erogati a meno di non prevedere di togliere risorse ad alcune regioni per darle ad altre quindi un organismo tecnico del Parlamento che sostiene la politica che dovrà discutere la legge di bilancio dice prima che si cominci a parlare della legge di bilancio attenzione che sui LEP non vi inventate nulla perché non si può fare niente no quello che state facendo è fare le nozze con i fichi secchi cioè stabilire dei valori ma non dire se quando e come saranno raggiunti non sono stabilite delle risorse vede direttore abbiamo un precedente interessante il LEP per i comuni per gli asili nido quando sono stati fissati il Parlamento passato ha stabilito delle risorse di bilancio per cinque anni per farli fare dove non ci sono e quindi si è avviato questo processo di convergenza per gli asili nido se tu li definisci entro sei mesi e poi non spieghi come li devi raggiungere non hai ottenuto assolutamente niente concludo non è materia tecnica direttore questa è materia politica sono i diritti dei cittadini che ci possiamo permettere e il Parlamento qui è prevista una commissione guidata dal ministro Calderoli che poi va con i DPCM vi ricordate Conte la pandemia i DPCM non passano in Parlamento io sono molto contrario a questo processo perché stabilire il tempo pieno a scuola nell'elementare è un diritto di tutti gli italiani bambini ce lo possiamo permettere com'è oggi la situazione come raggiungeremo un liguello uguale per tutti questo è il tema e questi direttori sono solo i LEP diciamo una questione perché non me ne vorrà il presidente Emiliano ma diciamo io una scuola pugliese non la vorrei vorrei una scuola italiana vorrei i docenti italiani programmi italiani differenziati su base locale già lo facciamo naturalmente ma mi piacerebbe tanto conservare il servizio sanitario nazionale e la scuola pubblica italiana Presidente lo dicevo non me ne vorrà non l'ha mai chiesto sono d'accordissimo col professor Viesti il quale sostanzialmente sta dicendo quello che noi nella dialettica quasi diplomatica perché stiamo in un'ottica che è innescata dalle regioni del nord nelle quali noi ci dobbiamo muovere con la stessa cautela di un diplomatico ma nella sostanza il professor Viesti ci ha detto guardate che l'articolo introdotto da Calderoli che definisce i LEP che come principio ci sta in realtà sta camminando su gambe inesistenti perché perché i livelli essenziali delle prestazioni prevedono un riequilibrio cioè se io stabilisco i livelli essenziali delle prestazioni devo dire dove siamo meno e dove siamo più per portarli in pareggio o ci sono risorse supplementari e faccio salire chi ha meno oppure devo prendere le risorse da dove sono di più e le devo portare dove ora mi immagino che a Calderoli se uno gli dice allora togliamo i soldi la Lombardia in piena campagna elettorale perché una delle ragioni di questa urgenza dell'autonomia probabilmente deriva dalla campagna elettorale della Lombardia che sta ballando perché è in campo la Moratti che ha spaccato in due il centrodestra ecco se uno facesse una proposta del genere probabilmente ci sarebbe una frenata immediata e la conseguenza qual è? che non ci stiamo capendo sulla rerum substanzia cioè sulle cose che ci stiamo dicendo questo è il problema e c'è un equivoco che mette in allarme tutti oggi il presidente De Luca con una tecnica diplomatica dice va bene allora se tu mi dai l'EP a me stanno bene e dice hai fatto bene sono contento che tu li abbia fatti è chiaro che la seconda puntata che stiamo preparando col governo è la definizione di che cosa intendiamo per l'EP anche perché c'è un altro principio del quale evidentemente si devono ricordare tutti che a nuove funzioni costituzionali devono necessariamente seguire le risorse per gestirle perché l'autonomia differenziata non ha a che fare solo con i poteri amministrativi delle regioni ma anche con i poteri legislativi quindi al di là del fatto che c'è il rischio che in alcune materie non solo ci siano leggi diverse questo già è attualmente ma che ci siano delle regioni che hanno la potestà legislativa in alcune materie per esempio la scuola o la sanità e regioni che non ce l'hanno e questo ovviamente scassa l'unità nazionale perché avendo la potestà legislativa faccio un esempio posso pagare un po' di più gli insegnanti e i sanitari della regione Lombardia cosa che dritto storto già avviene perché hanno un bilancio spaventoso la Lombardia ha 9 miliardi di euro di avanzo sulla sanità quando ad esempio la Puglia non ha un soldo di avanzo e quindi significa che io mi posso prendere tutti i medici e tutti gli insegnanti dalle altre regioni che non hanno questa forza e posso indurli con incentivi ad andare a lavorare altrove che poi era l'originaria intenzione cioè quando questa storia è partita non è partita come una riforma dello Stato per efficientare e dare più potere alle regioni era partita con la secessione poi si era trasformata in federalismo fiscale legge di Calderoli che definiva i LEP da quasi 20 anni e nessuno ci ha messo mani perché si sono resi conto che definirli seriamente avrebbe significato togliere soldi al nord e darli al sud non viceversa quindi ha ragione Bardi quando dice abbiamo aspettato tanti anni adesso li vogliono fare in sei mesi diciamo che le regioni del sud senza distinzione di indirizzo politico in maniera anche molto signorile e garbata compreso l'incontro che oggi Calderoli ha chiesto a De Luca e De Luca ovviamente che gli poteva dire al ministro non venire a Napoli Napoli è territorio italiano se il ministro vuole andare a parlare con lui c'è andato però nella sostanza la battaglia è ancora in corso e io poi lo dico come mia percezione ma secondo voi una forza politica che dopo 70 anni va al governo ed è dalla maggioranza assoluta del governo in questa fase con una crisi economica e finanziaria gravissima redistribuisce risorse alle regioni irrigidendo il bilancio dello Stato e non consentendo allo Stato in una situazione di grande difficoltà perché questo è il principio fondamentale per il quale molti sono contrari all'autonomia differenziata lo Stato centrale deve avere la possibilità di avere una cassa flessibile che a seconda delle contingenze può essere utilizzata secondo il principio di solidarietà può capitare al nord può capitare al sud se tu irrigidisci la cassa con le nuove competenze lo Stato non può fare il lavoro di perequazione un problema molto serio aveva ragione il professor Vietti quando diceva faccio fare 30 secondi di scoop nella legge di bilancio è previsto che la definizione dei meccanismi di finanziamento del complesso delle spese delle regioni che centrano con quello di cui stiamo parlando viene spostato dal 2023 al 2027 cioè al posto di accelerare per mettere ordine in tutti i meccanismi di finanziamento delle regioni che riguardano tutte le materie come dire si aspetta la fine del PNRR quindi diciamo il motivo per cui dobbiamo mettere a posto innanzitutto lo a casa che abitiamo è sempre più forte per i comuni che valgono molto di più delle regioni finanziariamente da questo punto di vista entro il 2021 andavano definite le perequazioni dare soldi a quelli che hanno meno gettito fiscale il termine è stato spostato al 2030 direttore quindi soffiamo facciamo scappare via il fumo soffiamo soffiamo e tiriamo fuori le carte poi ognuno ha le sue opinioni ma tiriamo fuori le carte ecco sì ma viene a questo punto da chiedersi cioè viene fuori una domanda spontanea ma a che ci serve accelerare perché non è meglio rinviare questo argomento ma io ve lo chiederò fra poco dopo la pubblicità allora autonomia differenziata che serva è indiscutibile poi ce lo dice anche la costituzione italiana ma farla adesso accelerare questo processo dopo che per tanti anni l'argomento è rimasto chiuso nel cassetto serve a qualcuno serve a qualcosa al di là degli argomenti politici che sono anche emersi e poi i cittadini onestamente oggettivamente che cosa ne sanno quanto può interessare ai cittadini un argomento del genere le vogliamo sentire? le autonomie regionali che ne pensa? che cosa sono le autonomie regionali? non ci salva nessuno sono l'uno peggio dell'altro motivare che queste tre lasciano e se ne vanno con calenda a un dato momento dispondo il capo dici io vi mando fuori tutte e tre secondo me farebbe bene se tu devi andarti da una parte con i tuoi voti non che la te popola questa è la politica regionale ma le autonomie regionali cioè i governatori che vogliono più potere quelli la Lombardia del Piemonte loro tendono sempre come da una volta una volta quando c'erano i re c'erano tutti i baroni marchesi tutta gente che veniva da loro che comandavano poi questi sono diventati nobili questi nobili visto che sono fatti una posizione sono passati alla chiesa presa proprio da dietro dietro è andata come da Asinopoli posso domandare politica adesso non siamo d'accordo ma a lei sembra giusto come faccio a fare la legge regionale uno dice sì guarda dice no è passativo è piccolo professore e non arrivi noi quello parla bene oggi domanda parla quella secondo me tutte queste televisioni che mettono tutti che spapazzo non sono giornalisti sono giornalai che sono giornalai poi propagandoli il giorno dopo con le giornali sono i stiloli che stanno lavorando allora se l'è presa con la regione ma con i giornalisti voglio capire la regione autonomica le regioni devono avere o no più poteri non tutte non tutte lei che cosa ne pensa dell'autonomia regionale niente secondo lei è un problema importante adesso non capisco c'è una cosa c'è ecco perché si mettono le cose in mezzo non puoi dire no avete fatto una legge del 5% io te guido ma con l'altro ecchia benissimo buona immacolata che cosa mangia oggi le pettole che si mangia oggi le pettole la vera vigilia dell'immacolata è la vigilia di Natale e basta è basta perfetto cioè parliamo d'altro la gente non sa di che cosa si parla allora appassiona la politica questo argomento non i cittadini assolutamente no appassiona la politica regionale perché dà tantissimi poteri alle regioni sono stato di parola prima due righe due righe adesso direttore le leggo le materie su cui l'Emilia Romagna che sembra essere quella più moderata sono quante pagine ecco solo i titoli salute istruzione università ricerca scientifica e tecnologica lavoro giustizia di pace beni culturali tutela dell'ambiente rifiuti bonifiche caccia difesa del suolo governo del territorio infrastrutture stradali e ferroviarie rischio sismico servizio idrico commercio con l'estero agricoltura e prodotti biologici pesca e acquacultura politiche per la montagna sistema camerale enti locali quindi i cittadini non ne sanno niente ma le richieste sono pesantissime direttore cambia completamente l'Italia come funziona lei diceva bene si può fare le regioni possono chiedere ma è il Parlamento che può concedere questa autonomia la Costituzione non dice che noi siamo obbligati a dare queste che loro le possono chiedere e come si decide si decide pensando alla vita delle persone politicamente alcune cose si possono andare anche le regioni forse alcune cose dovrebbero tornare al centro abbiamo imparato col covid si potrebbe rivedere ma in un colpo solo tutto questo pacchetto così grosso solo ad alcune io penso che sia molto sbagliato e molto pericoloso per il futuro del paese proprio a questo livello per il futuro dell'Italia per esempio Presidente Bardi la regione è una piccola regione come la Basilicata che cosa ci guadagnerebbe proprio di fatto con l'autonomia di quale tipo di autonomia avrebbe bisogno ma guardi lei mi invita a nozze facendomi questa domanda perché io credo che siamo l'unica regione in questo momento che in tema soprattutto di energia stiamo facendo delle cose uniche uniche non solo nel territorio nazionale ma uniche in Europa il fatto di aver investito le compensazioni ambientali per poter dare la gratuità del gas in bolletta a tutti i cittadini residenti in Basilicata credo che sia una cosa importante in un momento storico così difficile ma soprattutto il fatto di avere anche pensato a quella che è proprio una vera e propria trasformazione energetica quindi se io dovessi ora dire in tema di autonomia cosa farei sicuramente io chiederei l'autonomia per ciò che attiene a tutto l'aspetto energetico a tutto quello che fa riferimento alla transizione energetica e sicuramente questo sarebbe apprezzato dai cittadini perché vede quello che si diceva prima i cittadini si vogliono che si faccia politica però vogliono fatti concreti se vedono delle cose il cittadino da quello che io ho sentito dalle interviste non sa cos'è l'autonomia però se al cittadino gli dai la bolletta gratis capisce che è qualche cosa che hai fatto per lui quindi pensare che tutto il pacchetto quello che ha letto dell'Emilia Romagna sia una possibilità uguale per tutte le regioni credo che questa sia effettivamente utopia ogni regione ha una sua peculiarità deve investire nel prodotto che dia delle certezze ma soprattutto che dia delle risposte certe chiare ai cittadini che operano il territorio e poi io ritengo che la parificazione dei servizi essenziali in un territorio come la mia regione sia vada di pari passo soprattutto con quella che è la dotazione infrastrutturale perché è proprio la dotazione infrastrutturale che fa sì che molte cose che fanno riferimento all'autonomia non possono essere sviluppate l'unica cosa che mi tranquillizza in un certo qual modo è l'assicurazione del Premier Meloni su questo perché io ritengo sia una garanzia potrà garantire l'unità nazionale e la coasione territoriale noi abbiamo bisogno che ci sia un passaggio parlamentare perché l'obiettivo da raggiungere con l'autonomia è soprattutto quello della coesione territoriale grazie presidente e per la Puglia invece governatore allora ovviamente il presidente Bardi ha toccato un argomento che vi definisce diciamo le peculiarità delle regioni perché il presidente Bardi è in una regione piccola con diciamo meno di un milione di abitanti ma che ha il più grande giacimento di petrolio di tutta Europa credo e ha diritto a delle royalties particolari che ha deciso di girare perché Beato Luiz ce li ha direttamente alle famiglie per abbattere il costo delle bollette questa dovrebbe essere un'operazione però nella mia ottica e nell'ottica nazionale uguale ovunque perché le risorse nazionali devono essere messe a disposizione in questo momento così drammatico per contenere i costi delle famiglie perché altrimenti non è che possiamo prendercela con reddito di cittadinanza perché se la gente non ha un soldo e non può pagare la Puglia lo fa con l'energia con l'energia rinnovabile ovviamente i volumi non sono paragonabili nel senso che noi sull'energia non abbiamo royalty noi distribuiamo esatto noi roviniamo il nostro paesaggio e lo facciamo per conto di tutta l'Italia l'energia elettrica pugliese costa i pugliesi tanto quanto costa Milano quindi a noi diciamo questo sistema non convince perché si fa subito l'autonomia ma è evidentissimo c'è un patto di governo incollato male tra Fratelli d'Italia Lega e Forza Italia che ovviamente verte sul fatto che la Lega pretende anche in vista delle elezioni della Lombardia voi provate a immaginare che succede se in Lombardia il centrodestra perde le elezioni cioè è peggio che se avessero perso le elezioni nazionali al governo di Roma non so se è chiaro perché la Lombardia è la regione più importante e più ricca d'Italia e quindi c'è una corsa si vota a gennaio a consentire diciamo all'elettore Lombardo di considerare che la Lega ha mantenuto i suoi impegni su questo punto il presidente del consiglio Meloni è molto più prudente di Calderoli davanti a tutti noi ha detto niente fughe in avanti e se dovete mettere mano come diceva il professor Viesti ad una riforma dello Stato e delle regioni chiedo scusa delle regioni per dare loro più poteri queste poi vanno equilibrate con una riforma dello Stato perché è una costruzione armonica alla Costituzione non si può andare avanti a intese personali bisogna trovare un equilibrio secondo me è in corso una partita politica durissima interna al governo nella quale il centro-sinistra chiaramente non deve strumentalizzare perché noi in teoria potremmo dire fare la guerra stopparla e basta e dare diciamo l'impressione di volere strumentalizzare una situazione a fini puramente elettorali invece noi pensiamo che sfidare il governo come sta facendo anche il professor Viesti approfondendo alcuni passaggi che devo dire saranno molto utili anche a me in futuro è necessario per dimostrare che l'autonomia differenziata in questo momento non ha la possibilità finanziaria di essere realizzata ma voglio che ci arrivino col convincimento non con la scusa di dire non l'abbiamo fatto perché il centro-sinistra non l'ha voluto per noi è un'opportunità per noi il fatto di avere come ministro un pugliese Raffaele Fitto in quel ruolo a gestire i fondi PNRR la coesione il fondo di penequazione molto dipenderà da lui io ho detto spero sia cambiato perché è chiaro che se il ministro Fitto decide di entrare in questa partita e di sostenere beh ci dovrà stare per forza è titolare è titolare è titolare guerra la Lega quindi io al posto del ministro Fitto come del resto lui sta facendo sarei non prudente ancora di più perché deve mantenere quell'accordo di governo è una partita solo di questo tipo cioè come mantenere l'accordo di governo non c'è nessuna urgenza di dare più poteri alle regioni lo dico da regione efficiente che potrebbe permettersi di avere molte di queste materie e di gestirle bene perché noi siamo la prima regione nella spesa dei fondi europei la prima produttrice di energie alternative siamo una regione che sta avendo il PIL in questo momento che è il doppio di quello dell'Italia l'incremento del PIL quindi abbiamo assolutamente la possibilità di giocarci una partita del genere ma pensiamo che pensare a se stessi in questo momento di difficoltà del paese sia un errore politico gravissimo e quello che diceva prima professore è una questione di soldi tutto si gioca la partita si gioca intorno al salvadanaio che ormai è rotto e non c'è nient'altro non pare che sia rimasto proprio poco o niente c'è un aspetto particolare previsto e sul quale c'è già un'intesa la cosiddetta perequazione ecco se si dovesse sbagliare qualcosa fare una previsione sbagliata ci dovrebbe se ci dovesse come se se dovesse sorgere qualche problema c'è sempre una veduscita cioè la perequazione come dovrebbe essere però secondo lei com'è già attualmente dunque la perequazione per i comuni è già nella legge semplicemente non si attua perché significa destinare più risorse ai comuni più poveri è quello che le dicevo prima dovevamo farla dal 2009 l'avevamo fissata per il 21 e adesso è nel 2030 perché i comuni che incassano meno dai propri cittadini devono garantire servizi non dico uguali ma un po' più vicini a quelli che incassano di più quindi le norme già ce le abbiamo io sono così contrario a questa autonomia differenziata perché ci costringe a discutere dell'eccezionale invece di quello che deve funzionare quello che abbiamo già deciso quello che bisogna mettere a regime e vorrei diciamo soprattutto avendo in pensiero quei due simpatici cittadini che abbiamo visto prima fare capire diciamo i problemi che ci sono vorrei fare un commento su quello che ha detto il presidente Bardi e un commento su quello che ha detto il presidente Emiliano la giunta regionale della Basilicata ha destinato queste risorse che lei ha come compensazioni petrolifere a non far pagare il gas alle famiglie lucane ne aveva ogni diritto secondo me ha fatto anche bene ma io lo trovo profondamente ingiusto perché i calabresi devono pagare il gas e i lucani no cioè attenti attenti perché i lucani ci rimettono il territorio perché i lucani hanno il petrolio ho capito ma chi ci mandava l'energia con le centrali idriche chi ha la geotermia in Toscana non sto contestando quanto è stato deciso sto dicendo stiamo attenti a dire che questo è mio sentiamo a caldo quello che ci dice il presidente Bardi loro hanno fatto diciamo una cosa che viene dagli accordi del passato ma il mio è il principio capisce siamo un paese discutiamo discutiamone presidente Bardi ma guardi le posso subito rispondere intanto non parliamo di royalties ma parliamo di compensazioni ambientali le compensazioni ambientali sono quelle che vengono dalle compagnie date al territorio le persone che vivono il territorio per i danni che ricevono in termini di salute e per l'inquinamento atmosferico dell'ambiente quindi il fatto di utilizzare le royalties fa riferimento a un profedimento che è in capo in questo momento allo Stato ma su quale si potrà anche discutere se parliamo di autonomia per quanto riguarda le compensazioni e come utilizzare questi fondi in realtà le compensazioni che già da vent'anni ci sono sono state sempre utilizzate per investimenti per aiutare il bilancio regionale per essere investiti nell'università che noi finanziamo sul nostro territorio ora il discorso di essere riusciti finalmente a trattare con le compagnie a poter utilizzare queste risorse per i lucani che vivono il territorio e per compensarli da questi danni che ricevono credo che sia un qualcosa che è peculiare del territorio io non credo che bisogna essere attenti attenti a che le risorse che prima venivano investite in un certo modo ora vengono investite in un altro modo che ha tenuto conto del particolare momento storico e quindi abbiamo ritenuto come giunta di poterli dare direttamente ai cittadini quindi voglio dire una peculiarità del territorio dice Bardi prima li spedevamo peraltro adesso li diamo ai cittadini io non mi sollevavo una questione di merito di questo provvedimento capito mi chiedo è giusto che un calabrese debba pagarlo e un lucano no? vogliamo parlare di chi sono queste risorse come vanno gestite e sono domande importanti diciamo nell'ottica nazionale e il presidente Milano raccontava diciamo dei tormenti nel centro-destra per questa autonomia differenziata il direttore forse saprà che la presidente Meloni nel 2014 ha presentato un disegno di legge costituzionale per abolire le regioni quindi nel 2014 come dire non solo non gli voleva dare nessuna autonomia ma le voleva togliere tutto ne parliamo ma anche in centro-sinistra c'è le sue spine io adesso non vorrei rovinare l'arrivo del presidente Boraccini ma il presidente Boraccini è stato decisivo per far decollare questa tematica e quindi a mio avviso il senso negativo ognuno ha il suo punto di vista perché è stato decisivo perché si è affiancato alle regioni con la Lega ha firmato un accordo con il governo Gentiloni nel 2018 dove un presidente di centro-sinistra diceva è giusto che chi ha più soldi abbia più servizi e poi ha presentato questa lista della spesa colossale cioè non parliamo di piccole autonomie in più come forse è lo spirito della legge perché se vuoi dare più potere alle regioni devi cambiare la Costituzione chiederemo ad Emiliano che cosa ne pensa di Bonaccini fra poco dopo la pubblicità Presidente Emiliano abbiamo parlato di Bonaccini che lei appoggerà al congresso del partito democratico il quale però fa alleanze con gli altri governatori del nord su questo tema dell'autonomia non vede una qualche contraddizione? Beh abbiamo fatto un lavoro su Bonaccini non da poco io e De Luca e abbiamo cercato di diciamo di attutire il suo entusiasmo per l'autonomia differenziata crediamo di esserci riusciti ovviamente domani quando Bonaccini sarà qui a Bari dovrà guardare in faccia a me Antonio De Caro tutti i militanti i simpatizzanti che saranno lì ad attenderlo e dovrà convincerci che non sta dicendo queste cose solo per la campagna elettorale ma perché ci crede e naturalmente noi vigileremo perché è evidente che l'Emilia Romagna vive un'ansia da autonomia differenziata perché assieme alla Lombardia e al Veneto sono le tre regioni più ricche e più incontanti d'Italia vorrebbero potersi autogestire perché dietro questa idea c'è che il resto d'Italia è un peso che bisogna scrollarsi di dosso questo pensiero è diffuso al nord e naturalmente chi fa il politico al nord in qualche maniera lo assorbe il punto è che quando si parla della costituzione e dell'organizzazione dello Stato non si può andare dietro agli umori momentanei perché il rischio è quello dello scatenamento dell'unità d'Italia e vorrei vedere poi l'Emilia Romagna la Lombardia e il Veneto se ci dovesse essere una reazione tale negativa sul mezzogiorno da farlo diventare veramente una terra senza speranza cioè sarebbe davvero gravissimo quindi ciascuno di noi si deve porre come diceva il professor Viesti il problema del prezzo della bolletta su tutto il territorio nazionale non solo nella tua regione perché il tuo diventa sempre più piccolo il tuo quartiere il tuo lato della strada e anch'io non ho nulla da dire forse al posto di Bardi avrei fatto la stessa identica cosa però c'è da porsi il problema di come si fa ad avere gli stessi diritti e gli stessi doveri questo Bonaccini dovrà accettarlo e devo anche dire che si sta sforzando senza diciamo retromarce troppo brutali di riconsiderare la sua posizione dovrà ovviamente dare dimostrazione nel corso non solo della campagna congressuale ma anche della sua eventuale attività di segretario perché poi uno viene eletto segretario però se poi entra in contraddizione con ciò che i suoi sostenitori gli hanno chiesto di riconoscere ci sono delle conseguenze certo Presidente Bardi intanto come sta funzionando questa norma lucana degli aiuti ai cittadini per il gas ma guardi intanto lei sa che per fare questo noi abbiamo dovuto fare una legge questa legge che è stata approvata in giunta poi è stata approvata in consiglio ha superato il vaglio della costituzionalità quindi è una legge che sta dando i suoi benefici perché noi siamo intervenuti con la legge per disciplinare la gratuità del gas ai cittadini ripeto residenti nella regione proprietari di prima casa ecco questo già è circoscritto ma soprattutto abbiamo pensato anche a chi non ha la metanizzazione vale a dire tante famiglie che erano sono sul territorio che non hanno la metanizzazione per questo è stato fatto un bando proprio approvato due giorni fa dove si è provveduto a fornire a queste famiglie a chi fa domanda un contributo un contributo che va dai 5.000 ai 10.000 euro per permettere la possibilità di fare pannelli solari di creare tutto quell'efficientamento energetico che fa compensare le persone più fortunate che hanno il gas nelle proprie abitazioni questo perché è importante perché lo spirito della norma non è e non vuole essere un incentivo al consumo ma noi abbiamo fatto una norma nella quale abbiamo voluto sottolineare che è un incentivo al risparmio perché deve tendere tutto questo a quella che è una vera e propria trasformazione in campo energetico quindi si parla tanto di transizione energetica in questo momento e io credo che sia un provvedimento giusto che come dicevo e giustamente diceva il mio amico Michele Emiliano è stato possibile forse realizzarlo in un territorio con una densità di popolazione molto ridotta ma che sicuramente finalmente ha potuto beneficiare di un qualcosa che in un momento storico particolare è una cosa molto importante certo grazie credo che potremo fare prendere delle nuove iniziative ritengo che sia giusto dare dei segnali importanti altrimenti noi continueremo ancora per tanto tempo parlare di autonomia però poi voglio dire c'è una disaffezione da parte dei cittadini a quella che è la politica i cittadini vogliono delle risposte concrete per esempio la seconda parte del provvedimento della Basilicata è stata identicamente strutturata con legge ed anzi era la legge che poi ha sancito l'alleanza tra il partito democratico della Puglia e il Movimento 5 Stelle quella sul reddito energetico migliaia di pugliesi hanno richiesto i primi finanziamenti per realizzare impianti presso le proprie abitazioni potendo produrre attraverso vento sole energia elettrica conferirla alla rete e la cosa interessante è che il surplus che non viene consumato direttamente viene monetizzato dai vettori e viene rimesso nel fondo di rotazione per costruire per rifinanziare la legge quindi è una cosa molto interessante voglio dire un'ultima cosa le regioni ai sensi dell'articolo 116 non mi ricordo quale comuna uno degli ultimi possono fare tra loro delle convenzioni per gestire insieme molte funzioni di quelle attuali ed eventualmente di quelle future una delle proposte che vorrei fare ai presidenti delle regioni che in questo momento si sentono più in difficoltà nell'accedere eventualmente ad una discussione più serena perché molti presidenti hanno paura pur di chiederla l'autonomia differenziata perché sanno di non avere una struttura amministrativa in grado di gestire allora bisognerà anche in questo collaborare tra regioni perché sennò altrimenti le tre regioni più potenti faranno la parte del gatto e noi quella del topo e questa cosa evidentemente non va bene converrebbe professor Viesti concentrarsi probabilmente maggiormente sulla gestione sull'attuazione sull'attuazione dei progetti PNRR sul impegno dei soldi che ci arriveranno anziché correre dietro questa autonomia di carattere politico certamente sì direttore questo è molto importante perché siamo uno snodo delicato il ministro Fitto ha detto delle cose che è molto apprezzato di analisi della situazione in cui siamo dobbiamo tifare tutti per l'Italia quindi dobbiamo dibattere suggerire affinché il piano vada avanti non si amai non riesce e quindi bisognerebbe parlarne molto e soprattutto pregare il ministro Fitto che sa benissimo di intervenire immediatamente a sostegno dei comuni più deboli del sud che temo non ce la potranno mai fare temo non ce la potranno mai fare però stasera abbiamo fatto una bella passeggiata direttore perché siamo partiti da questi lep che non si capisce che sono abbiamo provato a spiegare che sono dei diritti importanti e alla fine abbiamo fatto una cosa interessante l'abbiamo buttata in politica perché che cos'è l'Italia che cosa sono i diritti degli italiani le regioni lo stato nazionale noi siamo abituati a dire che siccome uno è un presidente di regione dell'Emilia Romagna deve essere a favore dell'autonomia differenziata ma non è vero i due predecessori suoi Vasquerrani e Pierluigi Bersani sono contrarissimi il presidente della Toscana era contrarissimo all'autonomia differenziata è un tema politico direttore è un tema politico molto interessante che a seconda dei punti di vista che vuol dire essere di centrodestra cos'è il fratello d'Italia cos'è la nazione e soprattutto dove temo il dibattito sia un po' più indietro che cosa vuol dire essere di centrosinistra capire soprattutto essere del partito democratico è molto interessante perché questo tocca tanto fumo ha detto soffiamo tante cose tecniche ma all'osso all'osso la questione di politica di diritti e di come vedi la società italiana tema rilevantissimo auguri al presidente Emiliano che domani ne parlerà con Bonacini ha già previsto cosa chiederà Bonacini che cosa gli dirà nell'orecchio è previsto da qualche anno perché la questione del sud e le questioni di cui abbiamo parlato stasera è un dibattito estremamente interessante anzi probabilmente andrò con la pennetta con la trasmissione e consegnerò direttamente quella Bonacini forse la cosa migliore ecco soprattutto questa ultima parte perché il professore ha detto una cosa importante i congressi non sono solo dei posizionamenti individuali o delle conte sono delle riflessioni politiche che alle volte non è possibile fare tutti i giorni durante lo svolgimento dell'attività politica ma che almeno durante i congressi sono doverosi grazie grazie anche a voi per averci seguito buonanotte a tutti grazie a tutti a buonanotte a tutti per averci seguito questa cosa musica sta arriendo mille per averci seguito per averci seguito qui Grazie a tutti.